Questo è il nuovo Gregory Stout 55, il nuovo zaino per trekking di più giorni di casa Gregory. Adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo dallo schienale di questo Stout 55, perché qui troviamo uno schienale che va abbastanza diretto a contatto con la schiena, uno schienale fatto con una schiuma da stampa 3D che da punto di vista la traspirabilità, diciamo, è nella media. Non è né super traspirante, ma non ci fa nemmeno sudare troppo, diciamo, proprio nella media di tanti zaini come lui. Quello che però mi piace tanto di questo schienale è il suo sistema Versa, ovvero quel sistema di Gregory che ci permette di poter andare ad adottare la lunghezza giusta dello schienale in base alla nostra altezza, quindi lo schienale è regolabile. Davvero, devo dire, è sempre ottimo trovarlo su degli schienali di questo tipo. Passando invece alla fascia lombare, qui troviamo una fascia lombare abbastanza grossa. Mi piace tantissimo il fatto che sia regolabile, infatti troviamo una parte di fascia lombare che esce dalla sua sede classica per andare ad avvolgere anche le persone più grosse, in modo tale proprio da avere una fisionomia o un avvolgimento ottimo. Una fascia lombare che poi presenta due belle tasche, sia a destra che a sinistra, e si chiude nella parte anteriore con una semplice clip, che anche a pieno carico lavora bene. Unico aspetto negativo di questa fascia lombare è che avanza davvero tanto materiale una volta che andiamo a stringerla e non c'è un posto di poterlo riporre, quindi avremo un sacco di materiale che ci sballonzano davanti ai piedi. Purtroppo, diciamo che con due semplici elastici si poteva risolvere il tutto. Parlando infine del peso che vi consiglio di portare con questo stout, diciamo che potreste arrivare tranquillamente fino a 18-20 kg, perché la fascia lombare lavora molto bene, lo zaino anche a pieno carico è veramente molto stabile, quindi davvero uno zaino con il quale ci si può caricare tranquillamente. Infine parliamo degli spallacci, degli spallacci di una sezione abbastanza classica, anche loro nella media per quanto riguarda la traspirabilità, diciamo che davvero spallacci senza infamia, senza lodi, davvero molto classici senza nulla di rivoluzionario, però comunque lavorano bene. Passando invece alla parte posteriore di questo stout 55, iniziamo dai lati, vi pronuncio che i lati sono simmetrici, quindi ne vediamo solamente uno. Sulla parte laterale troviamo una bella tasca rete, nella parte inferiore dove andare a riporre la nostra borraccia. Devo dire, una tasca rete fatta con un materiale bello resistente sicuramente non andrà a strapparsi anche nel suo lungo periodo, proprio anche solo toccando il materiale si sente che è bello resistente, quindi fatta veramente bene e le borracce riusciamo, assieme a prenderle, a riporle in autonomia. Continuando invece le feature sulla parte laterale troviamo semplicemente due cinghie, una superiore e una inferiore, ad andare a stringere per ridurre un pochino la grandezza allo zaino quando lo utilizziamo magari un pochino vuoto. Non troviamo null'altro e diciamo che la parte laterale è abbastanza semplice. Parlando invece della parte posteriore vera e propria, beh, salta subito all'occhio questa grossa tasca rete dove potrà andare a riporre qualche oggetto. Tasca rete molto grossa e che nella parte interna, quindi dello zaino vero e proprio, è fatta anche con un materiale abbastanza resistente, quindi volendo possiamo metterci dentro qualcosa di, non dico appuntito, però magari un pochino particolare e sicuramente lo zaino non si strappa. Nella parte posteriore possiamo portare tranquillamente dei bastoncini e in sé poi lo zaino è diviso in due perché troviamo la parte inferiore, classica del sacco a pelo, con la sua apertura, dove nella parte esterna troviamo anche i ganci per poter riporre qualcosa all'esterno. E poi c'è tutta la parte superiore del sacco dove andare a riporre la maggior parte degli oggetti. Il sacco lo si può aprire in due modi. Troviamo un'apertura a mezzaluna esattamente sopra la tasca rete che arriva fino in fondo, quindi comunque riusciamo a prendere tranquillamente tutti gli oggetti anche posti nella parte più bassa. E poi troviamo nella parte superiore, classica apertura dello zaino fatta con il cordino da andare a tirare per stringerlo e allargarlo per aprirlo. Cosa che mi ha stupito in questo zaino è che troviamo anche il passante superiore con la cinghia, perché questo ci permette di portare nella parte superiore anche una corda, nonostante questo sia uno zaino da trekking. E vi dico una corda anche perché il cappuccio è pensato apposta per poter ospitare qualcosa di grosso. Infatti il cappuccio è flottante, nel senso che si può alzare, non è fisso, volendolo si può anche togliere. Quindi sicuramente pensato per portare anche qualcosa nella parte superiore e poi in sé è come cappuccio a due tasche, una esterna e un'interna, belle grosse entrambe, in quella interna troviamo anche il rain cover. Quindi diciamo che un cappuccio comunque per quanto riguarda il feature è abbastanza normale. Parlando del comparto acqua, come vedevamo abbiamo due belle tasche nella parte laterale dove riporre due borracce, il rain cover, nella parte interna è possibile riporre anche la sacca idrica e poi lui sul materiale ha anche un trattamento DVR, quindi un po' l'acqua tenderà a scivolare via se vestevo prendere qualche goccia di pioggia. Parliamo infine dei materiali perché lui è realizzato con dei materiali innanzitutto 100% riciclati. Nella parte superiore è un 300D, mentre nella parte inferiore è un 420D. Dei materiali veramente molto resistenti, con questo zaino potrete fare di tutto e di più e sarà davvero difficile che lo andrete a rompere o a strappare. Ecco, l'unica cosa di questi materiali è che magari tendono ad alzare un pochino il peso. Parliamo infatti in questa versione da 55 litri di 1,7 kg che è comunque nella norma e davvero i suoi materiali sono un aspetto che vi farà sicuramente prendere in considerazione questo zaino anche per trekking davvero lunghi negli anni. Arriviamo infine alle conclusioni iniziamo dal prezzo perché questo Gregory Stout esiste non solo nella versione da 55 litri ma anche in versione da 45, 55 e 70 litri. Questa versione da 55 costa sui 180 euro online. Diciamo che è uno zaino che io personalmente vi consiglio avere se volete fare dei trekking molto lunghi e volete uno zaino che vi duri sicuramente nel tempo. Uno zaino ha delle caratteristiche abbastanza semplici, non ha sicuramente delle caratteristiche rivoluzionarie però già il fatto di poter portare una corda, il fatto di avere anche un trattamento di WR sullo zaino può essere qualcosa di più che magari ci può tornare utile in qualche trekking particolare. E tu ciao ragazzi, una speranza sia stato esaurante e esastivo anche per questo video vi ringrazio di aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!